Il bilancio provvisorio della regione siciliana, domani si vota alle primarie per le candidature del PD alle prossime elezioni politiche. E' stata presentata ieri sera la chiesa madre di Bagheria ai cittadini e ai fedeli la pala d'altare del 700 restaurante. A voi tutti benvenuti ad una nuova edizione di MediNews, appuntamento di sabato 29 dicembre. Varato il bilancio provvisorio della regione siciliana, per la prima volta non si spende più di quanto entra nelle casse, ha dichiarato il presidente della regione Rosario Crocetta, l'assessore regionale all'economia Luca Bianchi annuncia tagli e riduzioni di spesa per un miliardo di euro. Un'oculata riqualificazione della spesa, un incremento reale della previsione di entrata, tagli durissimi senza dubbio, ma non alla sanità e ai servizi essenziali. E un occhio di riguardo è stato mantenuto nei confronti della spesa sociale, delle imprese, dei precari, dei forestali. Il bilancio provvisorio della regione siciliana è stato approvato dalla Giunta e verrà discusso al più presto in aula. L'assessore all'economia Luca Bianchi ha parlato di un'operazione imponente, frutto di un lavoro difficilissimo, quasi un miliardo di euro, 900 milioni per la precisione. L'obiettivo principale è stato quello di ridurre del 40% rispetto al bilancio dello scorso anno gli stanziamenti dedicati alla gestione delle amministrazioni regionali. Poi sono state tagliate le retribuzioni accessorie, sono stati recuperati 300 milioni per il fondo degli enti locali, la cui voce era uguale a zero, e sono state cancellate tutte le entrate considerate oggettivamente aleatorie. Insomma, per anni, ha spiegato l'assessore, in Sicilia si è speso molto di più di quanto intrasse e le previsioni di entrate nei bilanci precedenti venivano spesso disattese. Un bilancio equilibrato che esclude qualunque rischio di default, ha insistito Bianchi, anzi si cercherà di sostenere lo sviluppo, ad esempio attraverso l'applicazione dell'articolo 33 dello statuto, che prevede la ricaduta in termini fiscali delle imprese non siciliane che lavorano in Sicilia sul loro reddito prodotto nell'isola. E poi c'è il capitolo sanità, verrà introdotto un ticket da un euro sulle ricette che consentirà il recupero di 15 milioni di euro, mentre per i ricoveri ospedalieri i pazienti che guadagnano almeno 50 mila euro l'anno pagheranno 10 euro al giorno per la prima settimana di ricovero, 5 euro per la seconda, poi più niente in caso di lunga degenza. I pazienti ancora più ricchi, con reddito di almeno 100 mila euro l'anno, pagheranno con lo stesso meccanismo 25 euro al giorno per la prima settimana di ricovero, la metà per la seconda, nulla dall'eventuale terza settimana in poi. Questo contributo di solidarietà non cambia la vita a chi è ricco, ha detto Crocetta, ma può migliorare i servizi sanitari dei pazienti più svantaggiati. E non senza una punta di orgoglio, il Presidente ha parlato di un bilancio che non richiede sacrificio ai cittadini, al contrario, secondo Crocetta, i sacrifici la Sicilia li ha fatti quando le sue finanze erano male amministrate. E adesso ascoltiamo il Presidente Crocetta, l'assessore Luca Bianchi. Non mi pare che stiamo chiedendo questi sacrifici, noi stiamo assolutamente tagliando le spese inutili e questo non comporta alcun sacrificio ai cittadini, anzi comporta dei benefici, perché manteniamo la solidarietà nei confronti dei precari. rispetto ai comuni abbiamo accolto la richiesta della Commissione Lavoro che ci diceva di farci carico quasi totalmente dei costi del precariato. Troviamo la quota di cofinanziamento dei fonti europei, che era stato il problema su cui si era intappata l'aggiunta Lombardo, rendendo completamente, facendo perdere 6 miliardi di euro di utilizzo alla regione siciliana, per cui si incomincia a innescare un meccanismo che è produttivo, elimina sprechi, non impone nuove balzelli. Eliminiamo società inutili e consigli di amministrazione inutili. Introduciamo il concetto che se uno va in pensione e poi ha un incarico per caso della regione non può prendersi la pensione e guadagnare l'indennità piena, che è una cosa mostruosa persino. Sarà pagato il 50%, allora può diventare conveniente per la regione dare quell'incarico, ma diventa anche conveniente per la persona. Quindi introduciamo una serie di valutazioni che sono eliminazioni di sprechi, però mettere in moto la macchina regionale. Un bilancio trasparente, cioè un bilancio in cui sono ben evidenziate le entrate, le uscite, tutte le entrate saranno credibili e monitorabili. Le uscite su quello abbiamo fatto una riduzione consistente, come quella che avevamo annunciato intorno al miliardo di euro, quindi molto importante, cercando di mantenere inalterate le poste che noi ritenevamo decisive, cioè spesa sociale innanzitutto, mantenimento dell'impegno di garantire le risorse per il cofinanziamento dei fondi europei, cioè quella quota di spesa decisiva per attivare le risorse europee e quindi la parte sviluppo che è decisiva per rendere sostenibile tutta l'operazione, un lavoro complicato. Antonio Ingroia ha sciolto la riserva per la candidatura in Parlamento. In una conferenza stampa Roma ha presentato il simbolo che è dominato dal colore arancione e con il suo nome in forte evidenza al centro. Nella parte sovrastante il simbolo c'è la scritta Rivoluzione Civile, mentre in basso ci sono le sagome rosso di cittadini e lavoratori. Nessun simbolo dei partiti che supportano Ingroia compare nel logo. Conquisteremo Palazzo Chigi, ha detto Ingroia, e avremo milioni di consensi perché vogliamo fare una rivoluzione pacifica dei cittadini, una rivoluzione civile. La decisione di Antonio Ingroia di mettere al servizio del Paese la propria esperienza di legalità e la propria credibilità internazionale è un motivo di speranza per il nostro Paese mortificato da anni di berlusconismo e dal montismo subalterni a poteri forti e speculativi del tutto indifferenti alle emergenze e bisogni sociali. Lo ha dichiarato il sindaco Leluc Orlando che ha aggiunto La stesura e sottoscrizione del manifesto in dieci punti posto a base della candidatura di Antonio Ingroia è stata per me, sindaco di Palermo, una scelta coerente con lo straordinario consenso elettorale ottenuto nella mia città a maggio a dispetto di soffocanti appartenenze e ignobili inciuci. Domani si vota alle primarie per le candidature del PD alle prossime elezioni politiche. A Palermo si voterà in piazza Politiama dalle 8 alle 21. Ascoltiamo l'appello al voto della deputata palermitana Alessandra Siragusa. Intanto una scelta coraggiosa del Partito Democratico che ha deciso, visto che Berlusconi ci ha impedito di cambiare la legge elettorale, ha deciso però di rimettere nelle mani degli elettori e delle elettrici la scelta dei parlamentari e io ho deciso di ricandidarmi perché spero vivamente che vincendo le elezioni il nuovo governo Bersani possa davvero imprimere un cambiamento forte al nostro Paese e io voglio dare il mio contributo perché questo possa avvenire a partire da Palermo e dalla Sicilia che possano diventare volano dello sviluppo dell'intero Paese. E' anche importante che molte donne si siano messe in gioco. Bisogna che al Parlamento ci sia una nuova ventata, una nuova vitalità? Non c'è dubbio, la democrazia o è paritaria o non è. Noi abbiamo alcune regole che rendono possibile che nessun sesso superi del 33% l'altro. Io penso che dobbiamo arrivare man mano alla parità di genere completa, la doppia preferenza di genere cioè la possibilità che si avrà domenica di votare un uomo e una donna. Penso che ci aiuterà in questa direzione e io lo spero di cuore perché bisogna veramente che ci siano tutti e due i punti di vista nelle istituzioni. Quindi siamo ormai alla vigilia, facciamo anche un appello a chi voterà? Io faccio un appello molto forte a venire a votare a Palermo, a Piazza Politeama, tutti insieme dalle 8 alle 21 e nei vari comuni della provincia, ognuno diciamo in genere sono le sezioni del PD. Votare è una cosa importantissima, è un'occasione di grande protagonismo della cittadinanza e bisogna che la cogliamo tutti insieme. Un altro appello al voto è lanciato da Francesca Corpora che si candida alle primarie del PD di domani in tandem con Pino Apprendi. Io penso che sia un grande atto di democrazia contro quello che è il Porcellum. Ogni territorio può esprimere quello che è il proprio candidato e quindi il candidato può essere il rappresentante dei propri elettori. Ovviamente quindi sì. Anche se perché saranno votati non solo i candidati ma anche il posto che andranno ad occupare nella lista e quindi diciamo chi avrà più voti avrà un posto più favorevole. Sì, questo sì. Anche se poi alla fine vedremo cosa decide Bersani. Anche perché diciamolo è un grande fatto di democrazia anche se ci sono dei limiti. C'è il ticket, c'è la riserva della direzione nazionale, ci sono i capilista che dovranno essere comunque rappresentati. Sono limitati perché possono votare soltanto quelli che hanno votato alle precedenti primarie del 25 novembre e poi del 2 dicembre oltre ai tesserati del 2011 che rinnovano. Però c'è un fatto importante, si deve votare. I voti, le preferenze che si possono esprimere sono due. Le preferenze che si possono esprimere sono due. Si vota per un uomo e una donna. Quindi andate a votare giorno 30 dicembre e votate per il rinnovamento. Votate Corpora Apprendi. Il sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, ha oggi sciolto la riserva da annunciato che rinuncia a correre per le elezioni politiche. Non mi interessa fare il parlamentare, ha detto anche se mi era stata prospettata una strada in discesa. Non voglio tradire i catanesi, comunque la pensino. Stancanelli ha annunciato anche che il 26 gennaio lancerà un grande movimento civico non legato ad alcun partito. Un uomo di 42 anni, Gaspare Ragusa, ieri sera ha scatenato il panico tra i passanti e un gruppo di prostitute in via Lincoln a Palermo sparando con delle pistole a salve contro le luciole. L'episodio è stato segnalato al 113. Una pattuglia della polizia ha fermato l'uomo e gli ha trovati in auto alcune pistole del giocattolo e dei coltelli. Secondo i primi accertamenti, a causa di una passata esperienza negativa, l'uomo aveva del risentimento nei confronti delle prostitute. Una delle donne contro le quali ha sparato è stata trasportata sotto shock all'ospedale civico. L'uomo è stato fermato dagli agenti e portato in caserma. L'assessore per le aziende partecipate del comune di Palermo, Cesare Lapiana, ha contattato la dirigenza dell'AMIA per sollecitare un pronto recupero della situazione dei rifiuti in città dopo le festività natalizie e le ferie di parte del personale addetto alla raccolta. Nelle strade si sono accumulate circa infatti 700 tonnellate di rifiuti non rimossi per i quali, facendo ricorso anche ai fondi straordinari messi a disposizione dall'amministrazione comunale, si è avviato un piano di recupero del pregresso che, secondo quanto assicurato dall'AMIA, si concluderà domani con il ritorno alla normalità su tutti gli itinerari di raccolta. E adesso passiamo alla pubblicità, vi aspettiamo fra poco. È arrivato il digitale terrestre! Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre tv sul digitale, Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista, posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre! Ancora problemi per la marineria di Porticello. Abbandonata a se stessa dopo l'incidente causato dal mare grosso e dalle forti raffiche di vento al traghetto Eurocargo Cagliari, con una decina di tir e semi rimorchi finiti in mare, a 7 miglia dal porto di Palermo. Le interviste. Oggi è successo che forse avevamo alcune passe più a riva, più a terra diciamo, e si è fermata la barca e abbiamo preso un tir. Avete pescato nell'area in cui sono caduti? Che qualche 3 miglia a destra e a destra sono cadute le cose. Quando è accaduta? A che ora è stata? Stamattina verso le 5. Cosa avete avvertito? Cosa è successo? La barca, abbiamo visto che si girava verso un lato e allora abbiamo capito che c'era, siccome noi conosciamo bene il fondale che non c'è niente, allora abbiamo capito subito che abbiamo preso una di quelle che c'era qualcosa che non andava. Abbiamo formato subito la barca, siamo stati fino a... che usciva il sole per vedere meglio come comportarci, abbiamo capito la capiterranea di Palermo, è venuta la motorezza di Porticello, è stata fino a quest'ora con noi là, è entrata pure ora. Niente, poi è venuta l'altra barca che hanno rotto pure la rete, Salvatore Zizio, fra cui lui ha rotto solo la rete. Lei cos'è accaduto invece? Stamattina al solito siamo usciti a fare una battuta di pesca, come è successo al capitano Crivello, si è fermato un pochettino la barca, si è girato verso il lato sinistro e abbiamo capito che c'era qualche cosa che non andava. Innanzitutto questa è l'ennesima dimostrazione di come la categoria dei pescatori è abbandonata a se stessa. Nessuno ne parla, nessuno dal 10 dicembre, il giorno dopo che successe il fatto, l'ANAPI Pesca ha segnalato all'assessorato competente, al Dipartimento regionale pesca, alla Capitaneria di Porto, il fatto, lanciando l'allarme come avete potuto ben capire anche dagli interventi dei pescatori, che c'era un danno all'attività di pesca di questa marineria in particolare, perché quell'area di pesca dove sono caduti i tir è fortemente impattante con lo strascio e il palangaro di fondo e dal 10 dicembre, cioè il giorno dopo che è successo il fatto, non abbiamo avuto nessuna, benché minima risposta da parte di nessuno, diciamo degli enti preposti a darci qualche risposta. È stata presentata ieri sera alla chiesa madre di Vagheria, ai cittadini e ai fedeli, la pala d'altare del 700 restaurata. È da alcuni anni a questa parte, soprattutto a partire dal 300esimo di fondazione della parrocchia, che il mio, il nostro, ecco, principio impegno per quanto soprattutto riguarda la chiesa madre di Vagheria è proprio, ecco, creare un movimento di restauro, un movimento di memoria delle cose pregevoli, delle cose artistiche, delle cose soprattutto che rafforzano la memoria del passato. Io credo moltissimo che dobbiamo riscoprire i valori del passato, soprattutto per le giovani generazioni, per dare forza, importanza al presente e costruire con un carico di speranza particolare un futuro diverso e migliore. Ogni restauro è un momento di riflessione anche sul linguaggio artistico esperito dal pittore. Attualmente non abbiamo un nome da, un nome certo, ma si può agevolmente proporre un pittore siciliano che ha lavorato lungamente per grossissime committenze a Torino, a Napoli e a Roma. Io penso che possa veramente proporsi il nome di un grande pittore del Settecento siciliano che è Mariano Rossi, pittore di Sciacca, che ha lavorato per committenze dei Savoia nel Settecento di Carlo Emanuele a Torino, per il Palazzo Reale di Torino, poi a Roma ha lavorato per la Villa Borghese, per il Palazzo di Città dei Principi Borghese, oltre per una chiesa importante come San Giuseppe alla Lungara e poi successivamente a Napoli su committenza dei Borghese nel Palazzo Reale di Napoli. La pala d'altare faceva parte di un gruppo di altre due pale che furono donate da Salvatore Branciforte nel 1771 per ornare la chiesa madre, la nuova chiesa madre di Bagheria, costruita una più vecchia chiesa che era stata demolita dallo stesso Salvatore Branciforti quando aprì il corso Butera. La pala, noi lo intuivamo dalla qualità, probabilmente dovete immaginare che l'uso di sistemi di illuminazione a cera l'avevano annerita e quindi nascosta. Il restauro, come tutte le opere di conservazione, ha messo in luce, ha rilevato invece l'altissima qualità di questo quadro e quindi del pregevole lavoro del suo autore. Terza edizione a Santa Flavia della manifestazione degli spazi della cultura, vediamo. L'iniziativa di oggi è la terza intanto perché è la terza edizione di Spazi della cultura. Noi con queste manifestazioni che poi tra l'altro sono sponsorizzate anche dalla regione siciliana assessorata ai beni culturali, vogliono essere un premio, un riconoscimento ai nostri concittadini che nel tempo hanno manifestato e hanno storicamente inciso nel rapporto con la cittadinanza. Oggi abbiamo ad esempio lo storico che è il Ciccio Loiacono, Francesco Loiacono Battaglia che si è distinto negli scritti su Santa Flavia, su Solanto e sulla raccolta inedite di scioglilingue, indovinelli. Cosa legata alla storia di Santa Flavia? E soprattutto l'ultimo libro, un comune, una villa e una basilica, vuole essere un omaggio al suo territorio che tanto amò. Lui è stato veramente in adorazione al territorio di Santa Flavia. Indubbiamente oggi celebriamo la memoria di questo personaggio importante per il comune Flavese, Francesco Loiacono, il quale insieme ad altri al Perez e ad altri personaggi, forse tra molti poco noti, hanno lasciato un'impronta importantissima, indelebile nella nostra cultura e nel nostro vivere comune. È obbligo per una comunità e per un'amministrazione riscoprire il passato proiettandosi al futuro, perché è dal passato che si costruisce il nostro futuro. Quindi questa manifestazione, insieme ad altre che verranno sicuramente nel futuro, riusciranno e ci aiuteranno a dare un'impronta nuova a quello che è il nostro vivere in questa comunità. Un'impronta che sia appunto sulla cultura, sulla riscoperta e sul valore di quello che abbiamo. Cioè noi spesso non abbiamo contezza di quello che possediamo, del bene immane che questo comune ha, non solo nelle opere d'arte, ma ancora di più negli elementi antropici, nell'uomo. Nuovo concerto questa sera alle 19 per la rassegna natale a Palermo, itinerari culturali tra arte, architettura e musica, quarta edizione, appuntamento alla chiesa di Santa Maria Lanova in piazza San Giacomo alla Marina, dove si terrà il concerto del duo Cerchi d'Argento composto da Romina Copernico, Arpa e Voce e Mauro Greco Violoncello. L'ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Una grande festa tutta palermitana per brindare insieme all'arrivo dell'anno nuovo con un grande spettacolo in piazza Politiama fra musica, risate e balli. Il 31 sera a condurre la serata saranno Pif, ex Iena e volto della trasmissione TV, il testimone e Teresa Mannino, comica conduttrice della trasmissione televisiva, se stasera sono qui. Dalle 22.30 sul palco montato in piazza si esibirà una band composta da 14 strumentisti e 7 voci che si alterneranno al microfono per declinare il tema della serata, la musica della dance degli anni Sessanta fino ai nostri giorni. Dopo il brindisi il cielo sarà illuminato dai coloratissimi giochi pirotecnici e la serata proseguirà con la musica del DJ producer Roberto Masi. Ed è tutto per questa edizione, vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata, augurandovi un sereno fine settimana. Situazione meteo di oggi, sabato 29 dicembre su Palermo e provincia, cielo poco nuvoloso, vento da nord-nord-est, temperatura minima di 11 gradi, la massima di 15. Su Catania e provincia previste nubi sparse, vento di tramontana, temperatura minima di 11 gradi, la massima di 15. Previsioni per domani, domenica 30 dicembre, su Palermo giornata serena, i venti saranno prevalentemente moderati e soffriranno da nord, temperature 9 gradi la minima, 15 la massima. Anche su Catania cielo sereno, vento di tramontana, temperature comprese tra 9 e 15 gradi. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.